Ciao, sono Davide Ricci, il presentatore. Inizieremo questa intervista tripla a Koopaling, Loris e Malware. Koopaling! A quanti anni hai la prima città? A 16. A 16 anni. A 15, l'ultima? Non mi ricordo, sono stermi da un po' ieri. Oggi. Ti sei già innamorato? Forse. Sì, una volta, molto deciso. Da dove deriva il tuo nome, Koopaling? L'ho associato insieme a Koopa, il teatro di Super Mario e l'in di Zelda. L'ultima volta che hai fumato una canna? A Santo Stefano. È stato Santo Stefano. Quando hai iniziato a fare i video? 4-5 anni fa, il primo video è stato una cosa così per provare. Avevo una spada Jedi, facevo i versi della spada con la mia stessa voce. Canzone preferita? Nessi trail? Non ne ho una, ho dei gruppi in genere, comunque... My World! ...e un rock progressivo. Cosa ne pensi di fare i Jays? No comment. Non mandereste col paese? Assolutamente sì. Cosa ne pensi di Metabies? Non lo conosco. I Panthesas? Indifferente. Film preferito? Pulp Fiction. Italia. Meta la Session of the Sprottly Smile. Città preferita? Napoli. Non ne ho idea. Cotto è il preferito? Sono astegno. Mojito. Bomma blu. Sigarette precedenti. Quello è cubano. Malvolo, poco. Va bene questo. Di qualcosa a Malware? Malware. Spero che continuerai a fare molti video con me e avremo un bel successo. Di qualcosa a Koopa di. Ciao Koopa, come stai? Tutto bene? Ciao Koopa! La persona più pazza che conosci? Davide Alici. Volkswagen. Koopa. Fai un euro. Eh no. Prossimi progetti per il futuro? Tanti altri video. Attenzione di fare un nuovo format di video insieme alla mia collega Malware. Ti senti realizzato? No, adesso no. Ringraziamo Koopa, l'aveste finito. Grazie. Quanti anni hai? 26. Quasi 26. Cosa fai nella vita? Lost. Lavoro nel caso di ripeto. Qual è il tuo programma preferito? Viene. Perché? Interessante, fanno ridere e bello. Il tuo desiderio sessuale più perverso? Farlo con Giorgia Palmas. L'ultima volta? Ehm... Settembre può essere... Sì, settembre. Ho passato un po'. Perché quel tappello in testa? Non so, mi ha dato Koopa, lì. Niente. Mi ha fatto questo affare i cappelli. Che opi hai? Calcio. Uscire. Calcio. Credi nell'amore? Sì o no. La cosa più brutta che ti hanno detto? Che sono esibizionista. Ma forse anche vero. Se uno ti dice non chiedere, cosa rispondi? Ti sarà dato. Descrivi Koopa in tre parole. Eh, lo conosco da oggi. Non è che posso sfruttarmi più di tanto. Posso dire che secondo me sa fare bene il suo lavoro. Cosa ti è piaciuta di questa intervista? Tutto. Quando hai portorito l'ultima idea? Io non ragione tanto, quindi... Boh, qualche giorno fa. Carica il tuo saluto. Ciao a tutti. Posso prestare domande? Si può andare? Chiedo al... Ciao a tutti. Inizieremo questa intervista tripla a Koopaling, Loris e Malware. Come vi chiamate? Cazzo, la prima domanda. In Italia. Iscriviti. Iscriviti ora se non l'hai già fatto. Subscribe. Subscribe now.